Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Hanno preso il via quest'oggi i lavori per il nuovo collegamento in cavo interrato che collegheranno Livigno a Premadio. In cabina di regia c'è Terna, Rete Elettrica Nazionale. I lavori, l'investimento per i quali ammonta 65 milioni di euro, saranno finalizzati ad incrementare l'affidabilità della rete elettrica in un territorio decisamente particolare, per struttura morfologica, interessato negli ultimi anni da frequenti eventi meteorologici estremi e la sua resistenza. Il progetto, nell'ambito di una serie di cantieri distribuiti, tra quelle che saranno le località teatro delle prossime Olimpiadi Invernali Milano-Cortina del 2026. Nello specifico, il progetto in atto in Altavalle prevede la realizzazione di un elettrodotto costituito da due linee in cavo interrato, poste a collegamento tra la cabina primaria di Livigno, cabina appartenente al distributore locale, e la stazione elettrica di Terna, situata a Premadio, territorio comunale di Val di Dentro. Nella prima fase dei lavori, avviata quest'oggi, la realizzazione delle opere che serviranno alla successiva fase, quella del posizionamento dei cavi. Due, i cantieri per altrettante aree del territorio comunale di Livigno. Il primo, nel tratto compreso tra il chilometro 23-400 della statale 301, fino all'attraversamento del torrente Vallaccia. Il secondo, sulla viabilità comunale, compresa tra il parcheggio, situato al chilometro 29-300 della 301, fino al passo Deira. Solo nelle prossime settimane, la prosecuzione dei lavori nel comune di Val di Dentro, con i cantieri operativi in orario diurno, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato le zone interessate dalle operazioni di scavo verranno ripristinate in maniera da permettere una normale fruizione delle aree. Nel periodo estivo, nei mesi di luglio ed agosto, i lavori di Terna verranno concentrati sulle zone di viabilità secondaria, in maniera da permettere un normale flusso del traffico dei vacanzieri, particolarmente numerosi in questo periodo dell'anno. Ne abbiamo parlato con Remo Galli, sindaco di Livigno. È partita un'altra opera olimpica importante, l'opera di Terna che porterà la linea elettrica a Livigno. È un'opera di oltre 65 milioni di euro, quella che sta facendo Terna, ed è un'opera che magari passa in silenzio, ma è una delle opere principali delle Olimpiadi. Abbiamo corso per riuscire ad arrivarci, siamo molto felici. Questo permetterà due cose. Uno, di garantire la sicurezza energetica a Livigno, ed è molto importante sia per i nostri alberghi, per i nostri ristoranti, ma anche, ad esempio, per la Casa della Sanità. E dall'altra parte, permetterà di ridurre al minimo l'utilizzo di generatori, quindi di generatori inquinanti durante il periodo olimpico, e utilizzeremo un'energia pulita.